No, non sono stato io. È stato D'Avian. Vi prego, vi supplico. L'intera Gallia è divisa in tre parti. Ci uccidono! Oh, Signore, abbi pietà! Qui dentro uccidono i prigionieri! Oh, smettilo, ha degenerato! Dove sono? All'inferno! E' più facile trovare uomini che offrano la propria vita che non uomini pronti a sopportare. Che hai da guardare, idiota? Ehi! Devo parlare con qualcuno! Questa è la tua nuova casa. I perri roventi, no! Pietà! Questo no! Arrivano! Vengono a ucciderci tutti! Vengono a ucciderci! Da dove l'hai preso, idiota? Non sono dell'umore. Ridammelo! Prendilo pure. Se ci riesci. Cinque sul nuovo è arrivato. Bel colpo, idiota. Vediamo se ti sei anche diverso. Quanta fatica per un rottame. L'unico rottame che vedo qua dentro sei tu! Cinque... Ridammi ciò che è mio e torna ai tuoi disegni, vecchio pazzo. Disegni? Quelli sono ovunque! Hai inciso tutte le pareti della cella! Ma... dov'è? Vieni qui, idiota! Togli quelle mani! Guarda il muro! Che fai? Concentrati! Concentrati! Che cosa sono? Messaggi del passato. Mi sono fatto gettare in tutte le prigioni di Parigi per trovarli. Come ti chiami? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Ma certo. Pierre Bellec. Conoscevo tuo padre. Tutte balle. È morto a Versailles. Quando è stato? Nel 76? 77? Dicembre, mi pare. Niente testimoni. Come fai a... Tuo padre era un assassino, Arnaud. Ha dato la vita perché l'umanità fosse libera. Resta con me. E forse potrai unirti alla confraternita. E onorare la sua memoria. Senti, di certo il vostro piccolo culto è nobile. Ma non mi interessa. Io voglio solo trovare Elisa. E come pensi di farlo, rinchiuso qui? Eh? Ancora. Ancora. Ti, idiota. Che succede là fuori? I cittadini si ribellano. Sta pronto. Potremmo avere la nostra occasione. Su. Un colpo di cannone. A volte occasione fa rima con cannone. Occhio ai prigionieri! Su, seguimi. A riparo! Prigionieri, contro il muro! Con quale autorità? Sapevo che sarebbe finita male. Silenzio! Indietro! Prigionieri, contro il muro! Indietro! Bene. Andiamo via da questa fogna. Ehi voi! Alta! Mi sono aiutata! Corri più che a voi! Qualsiasi cosa accada. Fatemi uscire! Resiste, Tapia! Arte! È chiuso. Tienimeli lontani, idiota. Se uno mi accoltella... Bellek, la porta è aperta. Non l'ha ancora. Abbiamo un problema. Mori! Per carità, lo fai con calma! Ti vedo, bastardo! Bellek! Ah no! Non correre per colpa mia! Non ti devi occupare! Stai scherzando? Fatto! Ora ti faccio cadere a te! Rivedo! Ah, ti resta! Non è il contile interno! Siamo spazzati! Per carità! La mecca! Sì, Dio mio! Correto! La folla leggerrà occupato! Ehi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora, su! Ottimo. E poi come scenderemo? Fidati. Mi arrendo! Mi arrendo! Forza! E cos'altro aspetti, idiota? Ora salta! Cosa? La prigione ti ha reso pazzo, vecchio? Ci aveva già pensato il vino tempo fa. Ora vieni qui, forza! Io non... È impossibile! È impossibile! È alla portata di ogni assassino, ragazzo! Quando finirai di ragionare con il culo, vieni da noi. Impareresti molti. Addio, idiota! Tu! Allontanati dal bordo! Merda! Merda! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Elis! Che benvenuto! Dopo quel che è successo, devo stare attenta. Elis, io… Non hai già ripagato la bontà di mio padre? Elis, ti prego, non crederai che abbia ucciso il Signor della Serra! Tuo padre non era l'uomo che credevi, e nemmeno il mio! So benissimo chi era mio padre, Arnaud. E so chi era il tuo. Immagino fosse inevitabile. Tu un assassino, io una templare. Tu? Ti stupisce. Mio padre ha voluto che seguissi le sue orme. Ora posso solo vendicarlo. Te lo giuro, non c'entro niente con la sua morte. Invece sì. No. No! Sulla mia vita, giuro che non… Ma è… La lettera che mio padre doveva ricevere quel giorno. Leggila. Gran maestro della Serra, Ho appreso dai miei agenti che un uomo del nostro ordine vuole uccidervi. State in guardia all'iniziazione questa sera. Non fidatevi di nessuno, neppure dei vostri amici. Che il padre della comprensione vi guidi. L. L'ho trovata sul pavimento della sua stanza. Sigillata. Non lo sapevo. Nemmeno mio padre. Come potevo saperlo? Vattene. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Stop Black. No poggi 7 материali. Ciaron Sog esta g佳itta. Per nasce. Non ne sono generalizzato questo prego. Stoeganie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.